Eccoci qui come è stato un saluto a tutti, ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi e a lasciare un like, a iscrivervi da questa parte, attivate la campanella, il sogno è una targhetta anche su questo canale, ma siamo neanche a 20.000 iscritti, mi raccomando, iscrivetevi se sentite un rumore di sottofondo mia figlia Beatrice che guarda, osserva. Allora, novità per quanto riguarda il Milan, oggi, stasera la gara con l'Atalanta è molto importante, una gara da dentro fuori per arrivare in semifinale e sfidare poi la Fiorentina che ieri ha battuto i rigori, un ottimo Bologna. Però c'è una situazione dietro un po' particolare, Pioli pare intenzionato a giocare con il 3-4-3, una sorta di 3-4-3, poi dipenderà un po' dalle fasi. Megnani in porta, i tre chi sarebbero? In mezzo l'unico difensore di ruolo che è Gabbia, sul centro-sinistrato Hernández, sul centro-destra Calabria, quindi non sono tre difensori puri centrali ma è uno più due terzini. Eh sì, cara Beatrice. Poi i quattro di centro-campo, sulla sinistra Imenetz del Real Madrid, sulla destra Musa, i due in mezzo Reinders e Loftus-Cic. E poi in avanti i tre che sono Pulisic a destra, Leo a sinistra e terminale offensivo Jovic che vuole provare a scalzare anche Giroud nelle gerarchie visto che Giroud vive un momento molto negativo. Una sorta di 3-4-3, che poi puoi diventare una difesa 4 con Imenetz che magari che scala, anche se Imenetz non è un grandissimo difensore ma è soprattutto un giocatore bravo ad offendere. Dall'altra parte, attenzione, l'Atalanta che recentemente ha battuto il Milan e ha delle potenzialità offensive non da poco. Peccato non poter utilizzare Gir, che non puoi giocare ogni tre giorni. Peccato non aver preso il rinforzo già subito perché altrimenti oggi giocherebbe e forse si potrebbe stare i tifosi del Milan tutti un po' più tranquilli. Ditemi se secondo me la formazione è migliore, perché non Simic? Aggiungo, scrivetelo qui sotto nei commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella e grazie. Mi raccomando, arriviamo a 20.000 iscritti entro fine mese, ci tengo, grazie per chi l'ha già fatto, grazie per chi lo farà. Commentate questa scelta un po' particolare, rivoluzionaria.